Iniziamo la nuova conferenza. Prendiamo posto, per favore. Un po' d'acqua, per favore. Ci siamo tutti? Allora, iniziamo. Orlando, Daniele Vicari. Alla mia sinistra abbiamo Daniele Vicari, regista. Michele Placido, protagonista. Insieme alla protagonista femminile, spero di pronunciarlo bene, Angelica Casancova. Sapevo di sbagliare subito. Poi abbiamo Marika Stocchi, produttrice di Rosamont. Federico Pedroni di Rai Cinema, qui non mi posso sbagliare perché lo conosco come Daniele da tantissimi anni. In prima fila abbiamo Joseph Ruschop, coproduttore di Tarantula, la parte belga del film. Lucy De Crescenzo, distributrice Euro Pictures. Il film, ve lo dico subito, uscirà in sala il primo di dicembre. Quindi siamo agli sgoccioli. Allora, se qualcuno, come ripeto, ogni volta volesse iniziare dalla sala, ecco, è la prima volta e sono veramente felice. Grazie. Francesco Gallo, agenzianza. Domanda semplicissima per Placido. Intanto complimenti perché l'interpretazione l'ho trovata straordinaria. Voglio capire che tipo di rapporto ha instaurato con questo personaggio. Come si è rapportato con questo personaggio così singolare. Grazie. Singolare sì, perché in effetti non mi è mai... Insomma, penso che sia fra le sceneggiature più belle che mi sono state proposte in questi anni, negli ultimi anni almeno, come attore. e voglio ringraziare appunto, naturalmente, non il regista ma lo sceneggiatore. No, è un po' una battuta perché diciamo spesso noi attori, ma se lo sceneggiatore non scrive una bella storia, voglio il regista a dimenarsi. Noi abbiamo bisogno di personaggi importanti, cioè da indossare. E poi ancora di più naturalmente accade che davanti alla macchina da presa, nel girare si compongono altre energie in cui il regista diventa il direttore dell'orchestra, per cui doppia... grazie due volte, perché non solo la sceneggiatura ma anche abbiamo fatto una bella squadra, penso all'interno abbiamo preso tanto di quel freddo in Belgio, mamma mia, quante sigaretta mi ha fatto fumare. Non fumavo, ho ripreso a fumare. Però, sacrifici che si fanno. Grazie, Daniele, davanti a tutti. Però ecco, come ho approcciato il personaggio? Perché Daniele ha scritto una storia molto interessante, non a caso poi l'ha dedicata a Ettore Scola, magari ve ne parlerà lui, ma soprattutto ci siamo immersi in un denominatore comune, cioè veniamo tutti e due da storie familiari di emigrazione e questo mi ha aiutato molto. Ieri, quando sono arrivato a Torino, scendendo dal treno, non è più la Torino di quegli anni, ma quando i miei zii, le mie zii e le sorelle di mio padre sono venute a lavorare nei ristoranti, a fare le cameriere, gli operai della Fiat, ha fatto bene, adesso mi viene in mente Scola, già, un mio fraterno amico d'infanzia, Fiatnam, come si chiamava? Trevico Torino. Trevico Torino. Trevico Torino, viaggio nel Fiatnam. Gino Deserio, che adesso è in pensione, è sindacalista, poi è diventato sindacalista nella Fiat, mi raccontava, con queste lettere mi mandava al paese mio, di com'era la sua vita da giovanissimo operaio, 17 anni, venuto a Torino. Per cui, insomma, quella materia mi ha, ma ancora di più, ripeto, ieri a Torino una grande fortissima emozione quando questi operai, questi contadini che verranno venuti qui per, chiamati dal governo, per fare del nord una, il cambiamento sociale pazzesco, cioè, le campagne abbandonate del sud, questo è stato un fenomeno, e il posto fisso in fabbrica, è quello stravolto in paese, ancora oggi paghiamo le conseguenze. Beh, insomma, sono ragionamenti che, è dovere anche, anzi, è molto, da noi che abbiamo avuto tanti maestri, cioè il cinema, come mi diceva Bellocchio, non è solo uno, e soprattutto, dobbiamo renderci conto che abbiamo un compito importante, non siamo solo per fare i belli davanti alla macchina da presa, ma per assumere una coscienza, perché il cinema, soprattutto il nostro cinema, forse come nessun cinema, in quegli anni è stato in prima fila, sulle barricate, Venuti che ripeto i nomi, ieri si parlava di Ermanno Olmi, anche i recuperanti, e cioè, noi abbiamo una grande, bellissima storia del nostro cinema, e soprattutto questo, capito, è soprattutto questo che mi ha, trovandoci in Belgio, per non parlare delle, del sacrificio, di centinaia di operai italiani, operai minatori, siamo stati, siamo stati a visitare la miniera dove sono morti centinaia di italiani, lì a Marcellino, Marzinello, Marzinello, scusa, Marcellino, ma fare un collegio femminile, però, ecco, penso di aver detto tutto, perché io poi non sono un attore, lo dico, lo ripeto, molte volte, anche per certi osservatori del nostro cinema, no, quando vogliono giudicare tutti i registi, con lo stesso metero, ma io non sono, né Antonio, né, grazie a Dio, non sono nessuno, Sorrentino, non sono nessuno, io sono Michele Placido, sono un'autodidatta, non me ne frega nulla dello stile, grazie a Dio, ci sono stati, i registi che non mettevano manco l'occhio alla macchina da presa come De Sica, e io, ecco, mi considero un piccolo allievo piuttosto di De Sica, che era un ex attore, e poi è diventato un regista, e io sono la stessa cosa, io sono la stessa, io sono un attore che dirige gli attori, non sono un regista che pensa all'estetica, l'essenza umana mi interessa, ma non ho copiato, cioè, io non ho un metodo, non ho un metodo di recitazione, io ho il vissuto come metodo, ho fatto le accademie alla Silvia D'Amico di Roma perché volevo diventare un attore di teatro, ma non avevo neanche idea da dove venivo, dal mio paesino, ho sempre guardato la vita, piuttosto che manuali di cinema. Daniele Vicari, Bruxelles come Torino della fine degli anni 40, inizio degli anni 50, ma con una velocità di cambiamento veramente moltiplicata per mille rispetto a quel periodo, a quegli anni. Bruxelles è una città bellissima ed è il cuore dell'Europa. Orlando vive isolato su una montagna e non si è mai posto il problema dell'Europa. Per lui l'Europa è una cosa astratta. Però suo figlio vent'anni fa, come fanno tanti giovani italiani ancora adesso, è andato a vivere lì e loro per questo non si parlano perché Orlando si è sentito tradito. e quando il figlio gli chiede aiuto Orlando salta sul treno e va. In realtà Bruxelles è una sorta di dopostoria rispetto alla vicenda di Torino o delle grandi città industriali dagli anni 50 e 60 perché Bruxelles è veramente una città del futuro. infatti noi quando trasformiamo le nostre città utilizziamo il termine brussellizzazione no? Perché? Perché Bruxelles ha vissuto dei cambiamenti traumatici Orlando si ritrova nel futuro quindi in un futuro che nessuno di noi conosce non è che non lo conosce solo Orlando ecco questa è la sfida di questo personaggio che sa a malapena leggere e scrivere non parla nessuna lingua parla solo il dialetto e quindi quando arriva nel dopostoria deve imparare ad orientarsi ecco l'idea fondamentale del film ruota intorno a questo l'incontro con con Lise completa questo percorso perché Lise vive invece Lise è Bruxelles nel senso che è il futuro per cui lei vive in questo futuro che Orlando non ha mai preso in considerazione non solo la sua vita ma sarà anche la sua vita il futuro intanto ecco volevo chiederti Daniele poi vorrei anche sentire la giovanissima protagonista intanto come per trovare un talento simile che tipo di casting hai dovuto affrontare che tipo difficoltà provini eccetera e poi magari darei la parola a lei a sentire che cosa pensa di questa esperienza Laura Muccino e Sara Casani che sono le casting di questo film hanno fatto un casting molto ampio abbiamo visto bambine in Italia in Francia qualcuna anche in Belgio anche in altri paesi dell'est limitrofi all'Italia però quando Angelica è entrata dentro questa stanza dove facevamo i provini si è accesa una luce succede sempre così con i grandi attori cioè tu lo vedi da come cammina se corrisponde in qualche modo all'idea che ti sei fatta del personaggio però in realtà Angelica è andata oltre adesso le dico una cosa che se fosse una mia studentessa diciamo della scuola di cinema io la direi così senza dubbio lei deve studiare deve ancora imparare tante cose però esistono le basi perché possa studiare perché Angelica ha fatto una cosa difficilissima alla sua età non ha raccontato se stessa nel film lei è molto diversa da Lisa è molto diversa quindi lei ha interpretato cioè quindi è andato oltre le proprie idee le proprie caratteristiche e quindi quando ha cominciato a fare il provino già appunto il suo ingresso era stato elettrizzante diciamo per me che cercavo questo questa idea astratta di personaggio poi quando lei ha cominciato ad interpretare le scene che aveva ricevuto ed è entrata in queste scene la prima di tutte è stata quella nella quale lei prepara il caffè al nonno e perché in questa scena già vediamo che questi due caratteri si scontreranno perché sono tosti tutte e due ma anche nel taglio delle cipolle anche nel taglio delle cipolle sono due caratteri duri e lei da dolcissima qual è si è trasformata immediatamente in una in una nemica di Orlando in una possibile nemica ecco questa emozione che ci ha dato in quel momento poi ha fatto sì che interpretasse il ruolo di che Angelica interpretasse il ruolo di Lise è andata così Angelica? è andata in questo modo come dice Daniele? direi di sì sono un po' diversa da Lise e il fatto che dovevo interpretare era anche una nuova esperienza che piuttosto ha aperto una nuova me perché ognuno ha il suo carattere noi tutti abbiamo le emozioni che ci stanno però non usiamo mai quindi per essere Lise ho dovuto di usare queste emozioni ci sei riuscita perfettamente almeno per quello che è il mio commento è la tua prima esperienza cinematografica? la prima grande sì perfetto ci sono domande? non ci sono domande allora io a questo punto parso faccio domande ai produttori non so se vuole iniziare Rai Cinema no esatto allora come è arrivato questo progetto e che tipo poi di evoluzione c'è stato e poi magari passiamo l'integrazione di Rai Cinema di Federico questo progetto è arrivato tanti tanti anni fa dopo aver visto al cinema Sole Cuore Amore ed essendone uscita molto provata ho cominciato a scrivere a Daniele una serie di messaggi e dopo non so quale il dodicesimo lui ha detto senti vediamoci che forse è un soggetto e quindi così è andata mi ha portato Orlando che appunto è il nome di suo papà peraltro quindi insomma da subito si è mosso tantissimo anche proprio emotivamente la storia di nonno tutti abbiamo avuto un nonno il mio somigliava molto a Orlando quindi ci siamo trovati lui ha detto una frase che io ancora faccio riferimento a quella quando mi ha detto sai perché Orlando una volta che arriva a Bruxelles e si ritrova questa nipotina il suo primo istinto è prenderla come una gallina e portarla a casa sua perché non ha altro modo per interagire e io ho immaginato che mio nonno avrebbe fatto esattamente la stessa cosa quindi insomma è nato da qui è nato da una condivisione prima di tutto emotiva e umana e poi però insomma ci ha voluto tantissimo perché ci ha voluto tanto a scriverla e Andrea Cedrola va citato perché Daniele ed Andrea hanno lavorato insieme a lungo sulla sceneggiatura perché all'inizio Orlando era un po' prendeva un po' tutto lo spazio era necessario far crescere l'ise nella scrittura quindi quella è stata la prima fase e poi è iniziata quella finanziaria che non vi annoierei anche perché a parte ringraziare ovviamente Ray Cinema e Joseph che senza i quali non avremmo potuto realizzare il film ci sono sette minuti di loghi all'inizio del film quindi vedrete che il lavoro è stato abbastanza impegnativo dal Friuli Venezia Giulia alla Regione Lazio il Ministero la Vallonia abbiamo messo insieme molti molti finanziamenti però ovviamente ne siamo felici tutti anche i finanziatori mi sembra di capire che alla base di tutto però c'è la stima nei confronti della persona che ha proposto questo tipo di progetto beh sì io ho fondato la mia società con Giuseppe Battiston quattro anni e mezzo fa e l'unico vero obiettivo era quello di lavorare con persone che mi piacciono non ce n'erano altri Federico Pedroni come entra Ray Cinema in questo progetto? in una maniera piuttosto piuttosto semplice nel senso che siamo entrati durante la fase di scrittura che stavano loro facendo con Daniele avevamo già lavorato in passato e questa ci sembra l'unica cosa voglio dire perché poi l'intervento è stato appunto abbastanza naturale cioè è piaciuta la storia ci piaceva la direzione verso cui stava andando però appunto una delle cose che ci è sembrata molto chiara è che Daniele Vicari è un regista che molto spesso appunto racconta delle storie come se fossero dei ponti tra due realtà diverse è capitato l'ho pensato appunto anche in molti altri suoi film del passato ecco questa cosa qui che proprio per chiudere il discorso che stesso Daniele faceva sembra una storia che racconta di due mondi apparentemente in contrasto riuscendo però a immaginare un ponte tra di loro ovvero il fatto che ci può essere un futuro senza dimenticare il passato e ci deve essere un passato che sappia guardare al futuro mi sembra che questa storia in questo momento sia una storia importante da raccontare ci è sembrato subito una storia molto nelle corde di Daniele e quindi siamo stati molto contenti sin da subito di essere appunto in questa larghissima partnership che fa appunto fa parte del cinema italiano, europeo contemporaneo quindi insomma mi sembra che anche la struttura produttiva dica molto su questo film che ha le radici antiche lontane in riva un lago e che guarda appunto ai palazzi di vetro e cemento di una delle grandi capitali europee domande? allora proseguo io allora Daniele una domanda per te Federico parlava di un ponte tra due generazioni però c'è una generazione che cerca di imporsi che è la generazione di Orlando ma c'è anche una generazione nuova quindi proiettata verso il futuro che si impone e dice io no non voglio fare quello che dici tu allora io ho sempre pensato che Orlando e Lise avessero lo stesso problema pur essendo molto distanti nel tempo e anche nello spazio perché Orlando viene dalla guerra sostanzialmente quindi nel dopoguerra ha dovuto inventarsi un futuro e inventare un paese Lise e quindi ha la guerra alle spalle Lise la guerra ce l'ha di fronte ed ha lo stesso problema apparentemente opposto a quello di Orlando ma fa parte della stessa famiglia di problemi lei la guerra ce l'ha di fronte deve inventarsi un futuro avendo di fronte la guerra quindi tutte e due questi personaggi hanno un problema enorme che è quello di costruire in qualche modo la propria personalità e capire in che mondo sono allora nell'incontro tra queste due personalità secondo me si compie un po' il percorso di come posso dire il percorso di comprensione che io come europeo devo fare a tutti i costi perché io sono dentro di me diviso in due parti da una parte lo penso il futuro la guardo l'Europa e spero che in qualche modo tutto quello che sta accadendo ci dia delle possibilità però allo stesso tempo mi guardo indietro e considero il fatto che gli Orlando ce l'hanno fatta loro ce l'hanno fatta anche con mille difficoltà hanno non sempre in maniera lineare ma in qualche modo ce l'hanno fatta tant'è che la generazione di mezzo la mia è vissuta in pace noi ce la faremo? ecco la domanda del film farei no la domanda del film fondamentale è questa qui ce la faremo abbiamo abbiamo pochi minuti se c'è un'ultima domanda sì la dedica scola è una dedica diciamo di affetto nei confronti di una di affetto profondo nei confronti di una persona che negli ultimi dieci anni della sua vita mi ha regalato un'amicizia abbastanza rara io e Ettore abbiamo fondato insieme ad altre persone abbiamo fondato la scuola volontè e da lì abbiamo cominciato così a frequentarci in qualche modo io non lo conoscevo prima una persona che non avevo mai frequentato ovviamente l'ho sempre ammirato da un punto di vista artistico e in questi dieci anni molto spesso ci siamo trovati a riflettere su cosa sta succedendo al nostro cinema e sulle difficoltà che abbiamo di fronte e quindi mi è sembrato naturale dedicarlo a lui per queste riflessioni che abbiamo fatto insieme perché perché in qualche modo lui lui come Orlando l'ha trovata una strada ecco io sento che noi non l'abbiamo ancora trovata ma la stiamo cercando grazie a tutti ricordo che il film uscirà il primo di dicembre grazie grazie a tutti grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te